Allora? Un po' più di quello che tu avevi previsto. Possiamo cavarne 145 milioni di lire. Quando credi di concludere? Tra qualche giorno. Ho il cliente a Milano. Cosa devo farne dei soldi? Tu continui a comprare in Sicilia? Sì, ho versato un'opzione per questi terreni. Guarda, confinano con i miei. In tutto saranno 5.000 ettari. Intendi ritirarti laggiù? Sì, 6.000. Vittorio, ancora non ti basta tutta la terra che comprasti. E ancora vuoi comprare, ancora? Metto al sicuro quest'uomo, mi dicesti, e poi chiudo. Ritorniamo al paese fino alla fine. Hai tanta fretta di morire? No. 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 No.